No, raga, no. Klaus, non voglio nominare quella marca, guarda. Che marca? No, no. Oddio, bastia, maffa, non te la cucina. Tutto a posto? Eh, dici tanto a me. È tutto a posto! Tutto a posto, amici, amici e amiche. Ma che cosa è successo? Clippate sta esplosione. Poi dici a me. Olio, olio. L'olio, olio. Olio, olio, due, la vendetta, porco, diamolo. La vendetta. Grazie.